Dio si fa conoscere, non si poteva vedere la sua gloria senza morire, bisognava coprirsi. Noi contempliamo tutta la sua gloria in questo bambino. Dio si rivela, uomo, perché gli uomini possano vederlo, riconoscerlo nell'umanità e sentire quanto questa è amata da Lui. Dio non si esibisce come, al contrario, amano fare gli uomini che pensano di farsi conoscere studiando le apparenze e mostrando quello che pensano potenza per far vedere chi sono. E in molti casi sarebbe meglio evitare. La manifestazione di Dio è molto diversa e la forza con cui si fa conoscere, che tutti possiamo imitare perché anche noi diventiamo epifania di quella luce dell'amore di Dio che è la nostra personale santità, la forza con cui si fa conoscere è quella più umana perché è l'amore. Dio si manifesta perché sa che l'uomo ha bisogno di via, verità e di vita, di una speranza che non deluda, di un cuore che sia più grande del suo ma che lo possa contenere di un amore che motivi il senso della vita, che spieghi dove andare, cosa stiamo a fare a questo mondo, che ci insegna ad amare e che anche indichi quindi le tante cose da fare in questo mondo. C'è tanto da fare. Ecco la bellezza della festa di oggi, che non ci porta via le feste, civilmente qualcosina sì, ma che ci rende capaci di rendere una festa tutti i giorni, cioè di vedere i tanti segni e luoghi dell'epifania di Dio nella nostra vita e che la rendono bella. Dio si manifesta ma non trova posto. Lo sappiamo. Non c'era posto per loro. I suoi non lo hanno accolto e non basta essere o dirsi suoi. Se vedendo il fratello in necessità gli chiudiamo il cuore, dice l'Apostolo Giovanni, o se amiamo a parole e con la lingua e non con i fatti e nella verità. E poi ci chiediamo ma non c'è per davvero posto? Quando vince il pessimismo tutto è difficile e troppo faticoso. Se ascoltiamo la paura e i calcoli, cioè le convenienze, tutto diventa un rischio e rivendichiamo il diritto di stare in pace e non farci disturbare. E se ci facciamo comandare dal banale egoismo, che è un grande dittatore, e che metta al primo posto sempre il mio benessere, finiamo per credere che far star bene gli altri significa star male noi. e perdiamo pericolosamente anche per tutti noi i sentimenti di umana solidarietà. Pericoloso per tutti. Perché poi a un certo punto non c'è posto manco per noi. L'altro non è visto come una opportunità che ci fa trovare il prossimo, cioè il più caro. e quanto abbiamo bisogno tutti di trovare il prossimo. E l'altro diventa solo un problema, un estraneo che temiamo possa essere un concorrente o un nemico. L'egoismo fa perdere le proporzioni, enfatizza e accredita il personale malcontento, tanto che non ci si commuove più per la condizione di chi non ha nulla. Nella epifania del Dio dei cristiani è decisivo il tema dell'accoglienza della vita. Tutta e di tutti. Dal suo concepimento alla sua fine. E accogliere non è una possibilità di chi se lo può permettere, ma di tutti. E tutti possiamo aiutarci a sostenere gli uomini in difficoltà. Mi hanno commosso. i carcerati della dozza che hanno raccolto per il pranzo di Natale dei poveri mille euro. E sono tanti in assoluto, onestamente tantissimi, il cappellano non ci voleva credere, per i carcerati della dozza, per il pranzo dei poveri. La loro offerta. E mi ha commosso, ieri, sono stato qui in un ospedale, una ragazza di 17 anni che non ha voluto abortire. E che mi ha detto, guardando questa bambina bellissima, cresceremo insieme. Credo che aveva proprio ragione. E vedendo nascere mia figlia ho capito Dio. Ecco che cosa significa accogliere. La Chiesa, che è sempre madre e maestra, sempre, considera come suoi le esigenze di tutti i membri dell'unica famiglia umana e il bene di ciascuno di essi. L'accoglienza e tutti i temi di carattere umanitario non possono essere usati per fini di parte. Perché sono sopra le parti. Devono essere motivo di convergenza per tutti, anche per quella buona politica chiesta dal messaggio della pace di questo anno. Certo, occorre cercare soluzioni condivise, ma è necessario farlo insieme, con fermezza e moderazione, ma senza mai mettere in discussione l'umanesimo, che è la vera identità popolare nei paesi di radici cristiana. Le prove di forza si fanno per difendere i deboli, non sui deboli, e siamo più forti per chiedere soluzioni, purtroppo sempre tardive, quando stiamo dalla loro parte. E per la Chiesa c'è sempre e solo un'unica parte. Difendere l'uomo, sempre e chiunque esso sia, rispettando e promuovendo i suoi diritti fondamentali che sono doveri reciproci. prima l'uomo. Oggi questa casa, allora, si rivela per quello che è. Una madre accogliente, di tutte le genti. Abbiamo ascoltato e imparato un po' di lingue. Ci fa bene. chiamate, come abbiamo ascoltato, in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, lo stesso corpo, e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Tutti accolti. E un unico corpo e un unico futuro. Ecco, scopriamo che le genti, guardate che lo possiamo essere ognuno di noi per gli altri un'altra gente, ma le genti, tutte, non arrivano a mani vuote. Portano ognuno un carico di coraggio, capacità, energia, ispirazioni, arricchiscono la vita delle nazioni che li accolgono. Tutte le genti sono buone. Questo in realtà lo diceva il patriarca Atenagoras. La festa dell'Epifania è un grande invito allora ad alzare gli occhi intorno e oggi ci impieghiamo poco, basta alzare davvero i nostri occhi e guardare i figli che vengono da lontano ed essere raggianti perché il nostro cuore palpita e si dilata di un amore grande, forte, umile, ma non mediocre, pieno di tanta umanità. Dio è davvero un padre buono e noi siamo tutti fratelli e le genti ci aiutano a capire chi siamo, a vivere non in modo chiuso perché intorno a questo bambino vediamo la fraternità che Gesù Cristo ha donato ad ognuno di noi tra persone di ogni nazione e cultura. Qui impariamo a parlare l'unica lingua di Dio che è l'amore e che ascoltando e leggendo e mettendo in pratica la parola diventa la nostra. Si parla così la lingua di Dio, eh? Diventa la nostra e tutti capiscono nella loro lingua se parliamo la lingua dell'amore. Qui è la piccola Betlemme dove è deposta la presenza di Gesù che fa diventare il piccolo capoluogo grande, universale di tutti, capace di accogliere tutti. e nella nostra fraternità contempliamo la bellezza di questa Chiesa cattolica universale senza confini come essa è e siamo davvero una grande varietà di etnie, di lingue, di culture ma tutti fratelli in umanità tutti figli di questo Dio le genti non diventano tutte uguali come si vede come si sente grazie ma unite e le nostre differenze non sono un danno o un pericolo sono una ricchezza ha detto Papa Francesco a Natale come per un artista che vuol fare un mosaico è meglio avere a disposizione tessere di molti colori piuttosto che di pochi l'esperienza della famiglia ha detto ce lo insegna tra fratelli e sorelle siamo diversi l'uno dall'altro e non sempre andiamo d'accordo ma c'è un legame indissolubile che ci lega e l'amore dei genitori ci aiuta a volerci bene lo stesso vale per la famiglia umana ma qui è Dio il genitore il fondamento è la forza della nostra fraternità e questa madre che è la Chiesa cattolica che dobbiamo amare tanto e difendere sempre questa epifenia allora ci fa riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli ecco la bellezza di oggi che non è un sogno ingenuo è l'umanità rivelata da Dio è il nostro presente è il nostro futuro siamo tutti come quei magi cercatori di futuro di speranza ci mettiamo in cammino come sempre senza avere prima tutte le risposte rischiando a volte tantissimo i magi non restano fermi non girano intorno a se stessi non aspettano rimandando sempre accettano il rischio di camminare diremo anche di uscire di sentirsi piccoli quando ci si confronta con i grandi orizzonti quando gli orizzonti sono piccoli ognuno si fa grande ci pediamo poco grandissimo quando gli orizzonti si fanno grandi e uno capisce che è un po' piccolino e ci fa bene tutti cerchiamo pace e futuro siamo come diceva qualcuno pellegrini del cielo perché la vita cerca in questa vita la vita che non finisce sempre pellegrini del cielo i magi portarono dei doni donare e non possedere regalare ci fa vedere Dio e ognuno di noi ha qualcosa ed è in realtà è un dono e scopriamo solo regalandolo i realisti pessimisti quelli che sconsignano ogni cammino quelli che riempiono di paure e non danno soluzioni che creano problemi senza soluzioni avranno pensato che non erano equilibrati i magi ma i magi trovano e anche per questo sono liberi da Erode seguiamo la stella della parola di Dio sia raggiante di amore il nostro volto e il nostro cuore ringraziando di una madre così bella come quella che vediamo oggi e siamo epifania di Dio con la nostra gioia e la nostra santità Amen